La nostra posizione è dai responsabili dire sì a questa candidatura. Ci piace lo sport, ci piacciono le Olimpiadi, ma non ci piacciono le Olimpiadi del mattone perché di fatto si rivelano un affare per le grandi lobby, per i grandi costruttori. Diversamente sono una grande presa in giro per i cittadini e per le città. Vi dicevo prima del miliardo di debiti che è inserito in gestione commissariale. Ci ricordiamo dei mondiali d'Italia 90, abbiamo finito di pagare il mutuo nel 2015. Mondiali d'Italia 90, mutuo nel 2015. Questi sono i tempi.